Allora, cosa succede? Niente, volevo... Siamo amici noi, no? E volevo chiederti se è possibile... Una cosa che non ho mai chiesto a nessuno, anche perchè mai mi sono trovato in una situazione come questa. Però, tutto un po'... Se faccio un giro di parole, vai dritto al soldo, che è successo? Ho bisogno di 1.000 euro. Se me li potevi prestare... 1.000 euro? 1.000 euro sono un po'... Questo è tutto. Questo è tutto. Per uno che poi mai non ha chiesto, non è che gli dici. Siamo amici o non siamo amici? Sei fortunato, sei fortunato perchè mi l'ha detto a mio padre. Ce li hai addosso? Ehi! Quando uno è nato con la camicia, è nato con la camicia. Certo. 1.000 euro. 2.000 euro. 3.000 euro. 5.000 euro. 6.000 euro. 8.000 euro. 9.000 euro. 10.000 euro. 10.000 euro. 11.000 euro. 11.000 euro. Non ti preoccupare adesso, fai le cose tue. Quando ci rivediamo, me le dai. Tranquillo. 10.000 euro. 10.000 euro. 10.000 euro. 10.000 euro. 10.000 euro. 10.000 euro. 11.000 euro. 11.000 euro. 11.000 euro. 11.000 euro. Perché non ci ne vedremo più. Perché non ci pensi. Forse è sicuro che... Addio. Peccato.